8 leggende che hanno fatto la storia, 8 leggende che dal 2 dicembre 2013 sono entrate ufficialmente nell'Olimpo del Calcio Italiano, ovvero la Hall of Fame. Inaugurata nel 2011, la terza edizione della Kermesse istituita dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio di Coverciano ha celebrato l'ingresso di altri grandi del nostro calcio, da Franco Baresi a Gianni Rivera, da Gabriele Omar Batistuta al due volte campione del mondo Eraldo Monzeglio, passando poi per gli ex arbitri Sergio Gonella e Cesare Gussoni ed il presidente dell'Inter Massimo Moratti. La domanda quindi alla quale vi chiediamo di rispondere è la seguente Chi è entrato nella Hall of Fame 2013 per la categoria allenatore? Avete tre opzioni, lippi, capello o trapattoni? A voi la scelta! Ci state ancora pensando? Cliccate sul link in sovrimpressione e guardate la clip Ricordi Azzurri dedicata proprio alla Hall of Fame del Calcio Italiano 2013. Lì troverete la soluzione al nostro quesito! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.